buongiorno sono già in coda bravo buongiorno quanto abbiamo fatto? 20 chilometri? 30? sono già fermi in coda ah meno male qua c'è l'incrocio Bologna si ora Teddy te fatti vedere subito che te noia vai dietro queste saranno le parole di tutto il viaggio Teddy vai dietro si hashtag Teddy vai dietro è con questo qua ciao siamo partiti ci va? si va vi porto a Eastbrook io ci porto io Teddy ehi 5 chilometri ma tanto sono da parte devo pagare? devo pagare a voi o no? è già sceso è già sceso non è scendolo toccherà scende ritirare il resto chi lo prende? maiale a riunirci a riunirci anche se che si è giù mi ha fatto nemmeno non è sceso io mi ha fatto non vuoi te mi ha fatto mi ha fatto te non vuoi te mi ha fatto i 45 di precisione quindi si può entrare in austria così dicono tedi tedi sei pronto tedi tedi eccoci siamo arrivati in austria andate a fare un giro a innsbruck adesso andiamo in autostrada direzione germania allora ci fermiamo un pochino tebby ci fermiamo e andiamo avanti ehi ci fermiamo è stanco anche lui amore vieni più in qua che non ti si vede eh ma se la cambiazza andate a fare un pochino Grazie a tutti Aggiornamento della Germania Ah, pensavo fosse una foto Aggiornamento della Germania La strada è lunghissima, mamma mia Non finisce più Si autoriproduce, te guidi un botto di ore Manca sempre un botto di chilometri Sì, adesso c'è il sole Vuoi mettere la bella notizia di 2,50 euro al bisogno Ma costa un botto Si è svegliato stamattina All'autogrid ci hanno fatto il regalo 2,50 euro Sinceramente noi l'avevamo comunque preventivato Diciamo che la spesa forse più grossa Del nostro viaggio sarebbe stato Il calburante Ma ragazzi così siamo partiti Troppo col botto Speriamo che è più A salire che sia un po' meno Ma non credo Però poi dipende dai distributori A volte lo becchi a 2,20 Dipende Dipende sempre Comunque tutto procede bene Noi ci siamo fermati a sgranchirci un pochino le gambe Anche Teddy Anche Teddy Direzione Hamburgo Hamburgo, giusto? Hamburgo E poi si entra in Danimarca Però vediamo Adesso con calma Tanto mancano ancora un po' di chilometri Vediamo se passano le ore Passano anche i chilometri bene Se no passano solo le ore Ore e chilometri Le maciniamo insieme Ragazzi Aggiornamento 2 della Germania Sono passate solo le ore Solo le ore Chi lo dice? Chi l'ha detto che ore e chilometri vanno insieme? L'ho detto io Non è vero niente Chilometri zero E ora sono 13 e 21 Due ore E sono due ore Siamo fermi qui Ma però è successo qualcosa di grosso Sinceramente sì Vediamo quanto tempo c'è ancora da aspettare Noi intanto mangiamo Ci riposiamo E forse 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 Cioè Utilizzerò il gabinetto Il gabinetto Perché se si sta dell'altro qui Sì ma il balle siamo appena partite da quella piazzola in pratica Comunque Ciao raga Ciao Sono ancora pompiato Meno male che c'è ordine in macchina Abbiamo No ma mai sono filmate A me lo metto a punto Guarda C'è l'aspirapolvere della zia Anche se vogliamo E sta accendo un po' i led Ma altro Vada la macchina Gesù santo Allentamento di 6 minuti a 400 metri Ti trovi ancora sul percorso più veloce Ma perché la gente li attraversa da una parte o da un'altra Ti lo lascia libero Ti lo lascia libero